La Biblioteca Fardelliana ha organizzato questo evento di profilo sicuramente internazionale, invitando illustri professori a trattare l'argomento su Samuel Butler. Il titolo del convegno internazionale di studi è Samuel Butler Root e affronterà tanti aspetti, non solo la personalità del Butler, ma anche si ritornerà a parlare di questa sua controversa teoria sull'origine dell'Odissea. Per riassumere in breve, il Butler contestò la tradizionale interpretazione dell'Odissea come opera di un poeta greco cieco, il famoso Omero, ma durante una serie di studi che lui condusse per molti anni nella Sicilia occidentale a Trapani, sviluppò un'altra teoria secondo la quale il poema era stato scritto da una poetessa siciliana, anzi, aggiungerei io, di Trapani. E allora noi vogliamo ritornare in senso critico, naturalmente, a parlarne e per fare questo abbiamo invitato la professoressa Hall e il professor Tulbil del King's College di Londra e la professoressa Elino Schaffer dell'Università di Londra, eminenti appunto studiosi nel campo degli studi dell'antichità. L'incontro si terrà a che ora e dove? Allora, l'incontro si terrà il 27 settembre, mercoledì, ad inizio alle 16.30, presso lo Specus su Coralli, la ex sala laurentina vicino alla cattedrale, messa a disposizione da Monsignor Gruppuso proprio per aiutarci nell'organizzazione dell'evento. Un'altra cosa che vorrei sottolineare, importante, è che la Fardelliana, in questo ho avuto anche la collaborazione del liceo scientifico Fardella, liceo classico, Ximenez, ringrazio l'ingegnere De Filippi per aver voluto anche lui partecipare nell'organizzazione dell'evento e poi vorrei ricordare anche che questo convegno di studi è solo un primo step di un programma ben più articolato. Abbiamo già da un anno intrapreso una corrispondenza fitta con St. Johnno Istituto di Cambridge, Gerussità di Cambridge, perché il St. Johnno Istituto conserva fotografie, documenti, lettere, mappe di Sicilia e di Trapani realizzate dallo stesso Butler. Con questo materiale che l'Università si è detta disponibile a mettere a disposizione della Fardelliana pensiamo in un prossimo futuro, tra qualche mese, di organizzare anche una mostra documentaria.